Benvenuti in questo nuovo Guarda e Gioca, oggi parliamo di Caldera Park, gioco della Pegasus Spiel e della D-Print da 1 a 4 giocatori di Kramer e Kisling, copie abbastanza nota nel mondo di giochi a tavolo. Come funziona il gioco e cosa troviamo dentro la scatola? Dentro la scatola troveremo quattro plance come questa che rappresentano aree del nord america con le fratterie, le foreste, laghi, geyser e quant'altro e vulcani, cose un po' così e di qua c'è una plancia comune che ci servirà per, lo vedremo, posizionare, capire come posizionare le tessere nel gioco. Dentro la scatola troveremo anche quattro sottoscatoline come questa, raffigurante diversi animali dove i giocatori possono mettere in modo sostenibile i loro componenti, componenti che come vedete racchiudono anche tutta una serie di tessere come queste, queste tessere qui che all'inizio della partita vanno messe coperte, ogni giocatore ha un suo pull e ne le svelerà 7. Però prima di iniziare un giocatore deve scegliere una di queste tessere che vedete qui in basso, sono tessere con le condizioni meteorologiche che vanno mescolate, quindi all'inizio ne avete un tot, vanno mescolate e messe a faccia in giù sulla plancia, quindi una parte non, vedete qui, una parte non verrà utilizzata, una di queste è la tessera sole che è positiva, le altre saranno negative. Allora all'inizio del gioco se ne sceglie una e la posizionate in uno spazio a vostra scelta. Cosa implicano queste tessere? A fine partita se ci sono altre tessere con animali, con gli animali raffigurate, queste verranno girate e non daranno punti, perché lo scopo del gioco è fare più punti vittoria con il posizionamento delle tessere. Come funziona un turno di gioco regolare? Allora a partire dal giocatore che ha il segnalino con la marmotta, sceglie una delle proprie tessere qui sotto e la posiziona in senso orario seguendo tutte le altre, in queste zone che vedete hanno questo specie di simbolo con la nebbia. Fatto questo, il giocatore di turno sceglie uno dei token circolari che vedete qui, ad esempio io scelgo questo con la capra e decido che le capre, questa le metto, vedete, nella foresta. Allora si va a vedere tra le tessere che il giocatore possiede se ce ne sono con le capre. Io prendo questa, questa qui ha la capra, anche un'aquila e un lago, ma mi va benissimo avere questa e la posizione in uno spazio, lo metto qui, che c'è la foresta. Tutti gli altri giocatori devono fare lo stesso. Terminato il turno ogni giocatore rifilla, riempie la mano, scusate, il numero di tessere qui per averne sette. Toccherà il giocatore successivo che riceverà la marmotta che deciderà di muovere per esempio i lupi e dirà i lupi li mettiamo in uno spazio del fiume. Qui il giocatore prende, in questo caso io prendo questa e la metto ad esempio nello spazio col fiume. Si procede in questo modo finché tutte e sette le tessere, questa obbligatoriamente, questa collago deve essere posta qui, verranno posizionate e quindi tutti avranno messo sette tessere nella propria plancia di gioco. Il turno successivo e tutti i turni successivi si dovrà prendere una di queste, volendo si può scegliere il sole che è una tessera positiva che vale per tutti gli animali, oppure si va un po' a rischio, si metterà la tessera nella plancia e si proseguirà fino a che tutte e 35 le tessere del gioco non saranno messe sul tabellone e la partita sarà finita. Per il calcolo di punti si segue il tracciato che è rappresentato qui. Si guarda innanzitutto se alcune tessere vanno girate a faccia in giù. Nel mio caso, qui ne ho messo una per esempio, io avevo questa che vedete non può stare, gli alci qui non sono ammessi e quindi devo girarla e quindi non fornirà punti. Poi si guardano i punti in base alle tessere sui territori, quindi se avete coperto tutte le aree indicate fate i punti rappresentati qui, per esempio 4 punti se avete coperto tutte le cascate o 7 punti se avete coperto tutte le montagne. Lo stesso vale per le praterie, per le foreste, i fiumi. Per i geyser invece si guarda se sono stati circondati da 6 tessere e si fanno 4 punti fino a un totale di 12. Fatto questo si ottengono punti per i vari animali. Si prende come riferimento il gruppo che dà più punti. Come danno i punti gli animali? Qui ho predisposto questo esempio per le capre, vedete qui ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e questa mi conta perché è la tessera bonus 10. Ho un gruppo di 10 capre e lo vado a moltiplicare questo gruppo per il numero di laghi, 1, 2, 3, laghi che contengono le capre. In questo caso 30 punti. Si ripete questa procedura per ogni animale. Più tessere hanno gli stessi animali, conteranno per ogni gruppo separatamente. Il giocatore che avrà ottenuto più punti vittoria sarà il vincitore e avrà vinto la partita a caldera park. Se lo volete giocare in solitaria è possibile, c'è una modalità che semplicemente l'unica differenza è che qui, come vedete, non ci sono le tessere già presenti ma vanno pescate casualmente da un pool e con la stessa regola, quindi se io la metto qui, andrà messa una tessera aquila nella montagna. Poi dovrò pescarne un'altra e decidere anche qui dove metterle. Questa è l'unica differenza. Si faranno poi un determinato numero di punti vittoria e questi verranno valutati secondo la tabella che vedete qua. Sotto 80 avete fatto sostanzialmente schifo, sopra i 220 avete o imbrogliato oppure siete di una forza della natura. Questo era Caldera Park. Se volete saperne di più sul gioco trovate la scheda completa su gioconauto.it. Nella descrizione c'è il link diretto e quindi che dire, al prossimo guarda e gioca. Ciao!